Ufficialmente si sarebbe dovuto parlare soltanto o principalmente di accelerazioni della spesa dei fondi comunitari, iniziativa lanciata dalla Regione Campania per invertire il trend degli anni scorsi e riuscire a spendere i fondi messi a disposizione dell'Unione Europea. Invece a Roccadaspide la prima tappa del tour voluto dal Governatore Caldoro per incontrare i primi cittadini si è trasformata in una controoffensiva a largo raggio, in particolare per ribattere alle accuse giunte nel corso dei mesi dall'amministrazione comunale di Salerno. Sanità ed ospedali del territorio, forestazione di sesso idrogeologico e soprattutto metropolitana del capologo salernitano ferma dal primo aprile scorso per la mancanza di coperture finanziarie. Così come aveva fatto in mattinata ai microfoni telecolore al margine del convegno al maschio Angioino di Napoli sui trasporti nel mezzogiorno al quale aveva partecipato anche il sottosegretario del Basso De Caro, Caldoro è tornato a ribadire le sue tesi sulla correttezza dell'operato regionale e sugli errori che invece, secondo il Presidente della Giunta, sarebbero stati commessi dall'amministrazione di Luca. Sono sempre di idea che quando succede qualcosa, ma non per indicare i colpevoli, perché se firmiamo un protocollo, un accordo, gli accordi si rispettano. La Regione ha rispettato l'accordo, purtroppo per le difficoltà che nascono, non voglio, io non sono il tipo che accusa nessuno, per le difficoltà che sono nate nel comune di Salerno e nel governo è riuscito a rispettare gli accordi che aveva preso. Per questo non vuol dire che noi vogliamo con loro superare questi problemi e trovare altre soluzioni, non sarà facile, perché quando chiaramente c'è un impegno a dare delle risorse e queste risorse non vengono date, il problema c'è. Però noi dobbiamo, con serietà, ecco, quello che faccio è un richiamo, essere seri. Gli amministratori parlano con atti pubblici, con atti, con carte, con impegni e richiamo tutti a fare questo lavoro concreto nell'interesse dei cittadini. Ai sindaci presenti all'incontro, invece, Caldoro ha rivendicato la battaglia portata avanti per privilegiare i piccoli comuni per impegnare fondi europei per circa un miliardo. Non un favore da parte della Regione, ha detto, ma un diritto dei sindaci per avere le proprie opportunità. Tutto questo senza dimenticare altre tematiche, come il distresso idrogeologico o la sanità, con il governatore che ha espresso dubbi sul progetto di ospedale unico della Valle del Sele per carenza di fondi, lanciando anche un segnale di speranza sull'ospedale di Agropoli. No, non è stato chiuso l'ospedale. Ogni ospedale deve avere una sua riconversione, ma non perché questo è per l'interesse dei cittadini e del paziente. Gli studi che ci sono, che dimostrano, che non è sempre l'ospedale più vicino, lo dico anche se può sembrare impopolare, non è l'ospedale più vicino, ma è l'ospedale che ti cura meglio la soluzione. E quindi nella logica della programmazione sanitaria, così come hanno fatto tante altre regioni prima di noi e hanno una sanità per il cittadino migliore, noi dobbiamo sapere anche i piccoli ospedali, le piccole strutture, che cosa devono fare. Si devono specializzare e devono fare chiaramente il lavoro che non è legato alla difesa di un presidio a tutti i costi, ma deve essere garantito attraverso quegli studi che dimostrano come meglio si cura un paziente. Se no ognuno di noi si sveglia la mattina e diventa programmatore sanitario. È un mestiere difficile fare programmatore sanitario e quindi i dati ci dimostrano questo.